Bene amici, recensione di Apple Watch di nona generazione e Apple Watch Ultra 2 Non mi vedrete buttarmi giù da una montagnetta a scale e correre perché voglio dare un taglio leggermente diverso a questo video Concentrarmi non tanto sulle novità hardware che ci sono con una funzione che effettivamente fa la differenza ma concentrarmi più su Watch OS X che cambia l'esperienza d'uso degli Apple Watch dalla quarta generazione in su Quindi si va abbastanza indietro, attenzione che bisogna avere iOS 17 su iPhone, quindi compatibilità da iPhone XR anche lì in su Altra cosa a cui voglio dare un po' di attenzione è questo logettino, questa scritta qua Carbon Neutral Perché ragazzi stiamo effettivamente rovinando il nostro mondo Quindi benvenga un'azienda come Apple che comunica quello che sta facendo per ridurre l'impatto Ovvio che la riduzione totale dell'impatto è impossibile, ovvio che la miglior riduzione dell'impatto è non magari creare nuova spazzatura informatica Nuovi orologi, nuovi cellulari e qua è un po' un controsenso da parte di Apple ma secondo me nemmeno tanto Perché andando ad aggiornare anche telefoni molto vecchi, anche orologi molto vecchi Vi ricordo che, vabbè, l'annuncio di qualche giorno fa che Google supporterà 7 anni i propri smartphone Ma Apple è quella che effettivamente fa andare bene con gli ultimi sistemi operativi Anche telefoni molto molto vecchi, quindi non c'è bisogno di cambiare smartwatch, cambiare telefono a ogni uscita Ovvio che se ne abbiamo uno vecchio magari abbiamo qualcosa prima del 4, il 3 abbiamo il 4, il 5 e secondo me qua già rispondo a una domanda Apple Watch Ultra 1 cambiare il 2? No 6 o 7 cambiare con 9? No Se andate più indietro, magari sì, oppure non avete un Apple Watch e vi piace Allora questo che ha un impatto zero per quanto riguarda le emissioni della CO2 può avere un senso anche etico E ripeto, chapeau ad Apple che queste cose le comunica in maniera trasparente, chiara e ci pone l'accento Poi magari ci sono anche altre aziende che lo fanno ma non si sa e quindi male perché anche la coscienza collettiva viene stimolata da questi comunicati E poi non è che Apple si compra dei certificati che è stato piantato un albero in Amazzonia O meglio lo fa ma per una percentuale abbastanza piccola In realtà dall'altra parte utilizza solo energia 100% rinnovabile In questo orologio c'è mi sembra il 30% di materiali riciclati, alluminio riciclato Ma un altro esempio, se voi riportate un Apple Watch a un Apple Store Loro lo daranno in pasto a una serie di macchinari che recupereranno tantissimo materiale Per esempio il tungsteno del motorino della vibrazione aptica viene estratto dal motorino della vibrazione aptica Magari di un vecchio Apple Watch e qua c'è il 100% di tungsteno riciclato Oltre all'alluminio e altre cose anche nel cinturino Attenzione che non tutte le combinazioni di cinturino più cassa sono carbon neutral Solamente quelli in alluminio, quindi comprate quelli in alluminio e alcune band Scusate il pippone ma ci tenevo particolarmente Ma passiamo a parlare un po' di iOS 10 Anzi prima la novità di questi due orologi che è il doppio clic Con questa gesture, guardate adesso giro l'orologio, faccio così Vedete mi viene riconosciuta e si possono fare cose Prima tra tutte aprire questo centro con tutti i widget che è personalizzabile Che è una novità di Watch OS 10 che trovo comodissima E che si attiva anche con uno swipe dal basso verso l'alto Novità perché prima dal basso verso l'alto si attivava il centro di controllo Che adesso si attiva schiacciando il pulsante qua a destra Ovviamente rimane la corona per muoversi nel menu Perché mi piace tanto questo, diciamo, riassunto? Perché vi dà una visualizzazione di quello che serve Non solo perché c'è anche il link rapido a eventuali applicazioni che usate più spesso Che sono modificabili Per esempio io gli ho messo anche comandi E posso fare veramente quello che voglio con quel liconcina Farmaci perché devo prendere la pastiglia per pressione tutte le mattine E qua novità in iOS 10 Se non la prendete o sono le dite che l'avete presa Si può attivare un secondo reminder E poi da qua si può attivare anche il controllo di tutte le applicazioni Ma non solo, adesso mi chiamo Come vedete sta squillando E io posso rispondere semplicemente facendo così questa gesture Comodissimo Vedete? Ho risposto E posso anche volendo chiudere la chiamata Quando siete in bicicletta state facendo sport Avete una busta della spesa Raga quanto è comodo Io vi confesso che con la precedente versione di iOS Cioè di WatchOS facevo così con il naso Non comodissimo Si può anche rispondere alle notifiche Adesso mi mando un messaggio Tac tac E si apre automaticamente la possibilità di rispondere con il speech to test Cioè con la conversione da voce a testo Doppio clic con le dita ancora Messaggio inviato Comodissimo Si possono fare poi tante cose Ma voi direte C'era già anche in accessibilità dei Watch precedenti Si e no Allora C'era Ma andava a comandare l'interfaccia in maniera un pochino più incasinata Ma soprattutto qua che abbiamo il nuovo chip S9 Abbiamo la possibilità di recepire molto meglio questa gesture Prima era una gesture di accessibilità Cioè chi non riusciva a utilizzare le dita per comandare Apple Watch Ma a volte funzionava A volte non funzionava Insomma bisogna stare lì Concentrarsi un attimo Adesso è una funzionalità molto più pop Molto più facile E soprattutto il Watch prende molto meglio l'informazione E questa è una differenza tangibile Mi è piaciuta veramente tanto proprio nell'usabilità quotidiana Altra differenza La luminosità Qua abbiamo 3000 nits Qua abbiamo 2000 nits Rispetto ai 2000 e se non sbaglio 1000 della generazione precedente Fa la differenza della vita? No, se siamo nel deserto del Sahara allo zenith col sole in testa Beh, si vede meglio Doppio clic sulla corona per entrare nel multitasking E anche tasto azione Beh, questo anche prima era personalizzabile Io per esempio ho attivato la torcia Perché di notte quando mi sveglio non voglio accendere la luce E allora con questo clic si può fare tranquillamente Senza svegliare nessuno Allenamento Mi è piaciuta molto la funzione dell'allenamento in bici Che prima di tutto può recepire via bluetooth I sensori della bicicletta Su cadenza, potenza eccetera eccetera Ma soprattutto guardate Sempre grazie a iOS 17 C'è la duplicazione dell'attività sullo smartphone Questo viene molto comodo per chi utilizza lo smartphone Magari come navigatore, come computer Lo mette sul manubrio E qua abbiamo la possibilità di vedere tutti i dati Senza dover sempre girare l'Apple Watch Ed è una duplicazione che secondo me ha molto senso Non vi ho fatto vedere una cosa Che se facciamo swipe su Abbiamo le live action Qua nella schermata dei widget Gli sviluppatori possono implementare Delle informazioni in tempo reale Sul loro servizio Per esempio, non so Ordine del cibo a casa Delivero mi sembra che abbia già implementato sicuramente Sul telefono, non ho visto anche se su Apple Watch La live che vi dice esattamente dov'è il rider Giusto per fare un esempio Molto comodo E poi l'implementazione delle mappe offline Se voi scaricate e si può su iOS 17 Una mappa offline sul telefono Ve la ritroverete offline anche sull'orologio Ovviamente rimane la parte prima voce Lui è cellular Quindi si può inserire una eSIM virtuale E praticamente non utilizzare il telefono Magari quando si va a fare sport Perché possiamo caricare sulla musica Possiamo ricevere le chiamate E la messaggistica Ma questo non è cambiato Rispetto al passato E poi c'è stato un redesign Di alcune applicazioni Ma soprattutto sono state introdotte Delle watch face fantastiche Snoopy è una droga Sono stato due ore Quando l'ho installata A cercare di vedere Tutte le animazioni Non ce l'ho fatta Sono tantissime E ogni volta che l'orologio va in stand by E lo riattivate L'animazione cambia Ma non solo Quando lo disattivate Attivate manualmente Anche quando Voila Girate il polso Per guardare l'ora Lo rigirate Movimento di attivazione Molto preciso Ovviamente c'è l'always on display Ma con un movimento preciso Io non lo utilizzo Guardate Sono una più bella dell'altra E l'altra watch face Nuova Un po' più tecnica Modulare ultra Ma vi dà Veramente un sacco di informazioni Informazioni Oltre a questo Anche qualche altra applicazione È stata leggermente modificata Attività un pochino più coerente Adesso vi fa vedere Proprio anello per anello Come state andando E niente Poi ci sono un po' di modifiche Qua e la grafiche Un po' in tutte le applicazioni By Apple Il sensore del rilevamento Dei battiti Elettrocardiogramme Eccetera 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 Non è cambiato Quindi vi rimando Alle recensioni Degli orologi precedenti Praticamente stessa cosa Prezzi Abbiamo 459 euro Per il serie 9 E Un giorno di durata Della batteria 909 euro Per l'ultra In titanio Qua si arriva A tre giorni Di durata della batteria Senza utilizzare Risparmi energetici Che devo dire Sono molto intelligenti Qua un ragionamento A me Gli smart sport Che durano poco Cioè che devo caricare Tutti i giorni Non mi fanno impazzire Perché devo stare fuori casa Spesso due giorni Una notte Devo portare un altro caricabatterie Tra l'altro In confezione di caricabatterie C'è esattamente lo stesso Dello scorso anno Con la Type C Come jack Per la ricarica Sia nell'ultra Sia nello standard Ma Per me è poco Cioè mi rompe le scatole Anche perché se lo carico di notte Non mi monitora il sonno Il sonno lo monitora molto bene Tra l'altro col sensore di luminosità Va anche a capire Se siete al chiuso All'aperto La quantità di luce Vi da suggerimenti Soprattutto se non siete Molto grandi E state tanto al chiuso Grande inteso Di età E quindi vi da suggerimenti Per evitare la miopia Insomma è fatto veramente bene Anche da un punto di vista Della salute Il sistema operativo Ma a me la batteria Che dura poco Sta qua sul pirolo Perché è un'altra cosa Come il doppio pizzico Mi è piaciuta tantissimo Di utilizzo quotidiano Quindi Il mio consiglio Se potete L'ultra Per la batteria E ovviamente È un pochino più grande È un pochino più importante È un pochino più caro Invece Non cambiatelo Per l'SE Perché è vero che costa poco Mi sembra 289 euro Ma Non ha Il nuovo processore Quindi non prende bene Questa gesture E non ha nemmeno La ricerca Millimetrica Di iPhone Perché qua C'è il nuovo Chip Ultra preciso Proprio per andare A trovare iPhone Millimetricamente E è veramente Tanto tanto Preciso Ricapitolando Se avete già Un Apple Watch Dal 5 in su Secondo me Non vale troppo la pena Se dovete comprare Un Apple Watch Il mio consiglio Ma non è perché Lui è l'Ultra Max Il più figo è Per una questione Di batteria L'Ultra Mi piace Veramente Tantissimo Apple Watch 9 Va bene Va come Tutti gli altri Apple Watch Con le migliorie Che vi ho raccontato Ma su tutto Gran lavoro Di Apple Sul software Molto bello Questo nuovo OS 10 Per Watch E soprattutto Complimenti Per fare E comunicare Qualcosa Per la nostra Cara Amata Terra E per continuare A supportare Telefoni Anche di qualche Generazione Fa Messaggio Finale Non cambiate Telefono O smartwatch Se quello che avete Ancora vi soddisfa Cioè le scimmie Lasciamocene sulle spalle Qualche volta E da che pulpito Parte la predica Però Io lo faccio Per lavoro Per provare Per dare a voi L'opportunità Di fare Scelte Consapevoli Scusate i pipponi Ciao